La resistenza italiana contro il nazifascismo non è stata solo un'impresa per adulti, è stata anche una storia fatta da giovani e ragazzi in tutte le parti d'Italia, storie da far conoscere quanto più possibile alle giovani generazioni. A Palazzo di Città, a Bari, nell'ambito del ciclo letture partigiane, è stato presentato il volume O Bella Ciao, racconti di ragazze e ragazzi nella resistenza e si ricorda in tal senso il lavoro della giovane comunità della città vecchia nella battaglia del 9 settembre 1943. Siamo qui in sala consigliare con l'AMPI proprio per raccontare agli adolescenti, ai ragazzi delle scuole medie, persone che hanno dai 12 ai 14 anni, cosa significò la resistenza per i loro coetanei di allora, cosa significò l'impegno anche di quei ragazzi che parteciparono giovanissimi alla liberazione dell'Italia anche nella città di Bari, che dette un grandissimo contributo in termini di liberazione. Dobbiamo raccontare quella storia perché i diritti non sono scontati, le libertà non sono scontate e anche a questa generazione aspetterà tutelarli e ampliare i diritti delle persone. Coinvolte nel progetto diverse scuole, il tutto è stato poi impreziosito dalla testimonianza di un ex partigiano via streaming che ha voluto salutare calorosamente i presenti. Trasmettere questa memoria, questo racconto dei fatti, questa conoscenza storica in forma accattivante e interessante per i ragazzi è fondamentale.